io adesso per non passare da invidioso vorrei semplicemente lasciarvi ascoltare le parole di un nostro collega con la suddetta domanda in sottotraccia poi rispondetevi da soli ok va bene sono curioso la domanda è la seguente ok con vari ed eventuali diciamo cambiamenti della stessa frase però è una domanda molto interesso fulcro quindi ma quindi è vero che c'è il trattamento di favore se nella stessa circostanza vi fosse stata un'altra persona un'altra entità un altro stream diciamo leggetela un po come volete però se siamo capiti vediamo ma come fai a dire che sulla è meglio porco due di calcio ci capisci meno del penguin ammazzate porco dio e grazie che mi doni i soldi continua a donarmi i soldi e continua a donarmi i soldi che ha guadagnato quella sozza di tua mare porco dio battendo in giro che io continuo a fatturare alle spalle tue quanta cattiveria veramente era un ragazzo con gli occhi da cerbiatto veramente una cattiva beh questo è chiaramente ma poi scusami questa se l'avesse del ragazzo non era ironia non non è sdrogo si um non funziona in quel caso della donazione cioè nel senso loro piano per culo il penguin ogni giorno no quindi ci sta che magari il loro pubblico giochi un po su questo anche perché poi ho visto parte della live anche blur prendeva in giro frene quindi c'era anche in clima coliardico no boh l'avrei letta come vendita pure loro stanno a gioco al di là di quello come osi al di là di quello che sti cazzi ma ragazzi io la domanda ve l'ho fatta rispondetevi non lo so se ci fosse stato qualcun altro sarebbe stato bannato credo qualcuno che casualmente è stato messo anche nella intro oggi chissà perché ma risentiamo no perché magari non è chiaro ma come fai a dire che sulla è meglio porco due di calcio ci capisci meno del penguin ammazzate porco dio grazie che mi doni i soldi continua a donarmi i soldi e continua a donarmi i soldi che ha guadagnato quella sozza di tua mare porco dio battendo in giro che io continuo a fatturare alle spalle tue questo tipo di linguaggio ma a me non me ne frega un cazzo cioè io non provo la minima emozione nel guardare sta cosa non è che mi indignano ma anche se l'avesse detto a me sì ma chi se ne frega però io so che non si può fa semplicemente questo so che nelle regole non si può fa infatti ho fatto appositamente la distinzione cioè se lo fai su youtube alla fine oh amen può piacere come non piace linguaggio strong ma quindi torniamo alla cosa che difendeva pure il nostro caro amico eduardo il masseo no ma no ma non è vero che che non pagano le conseguenze non lo so cioè nel senso io vedo che quasi giornalmente avvengono ste cose ma non perché assolutamente io voglia un ban però è il discorso è sempre lo stesso ma perché le regole valgono per qualcuna no per qualcun altro perché qualche animale perché c'è un animale più uguale degli altri comunque solo diciamo sì stasera lupus a proposito di animali anche qui relazione oltremodo eccessiva col carcio di mezzo quindi due punti dolenti due punti dolenti ma se c'è di mezzo il calcio io ho perso da zero fallo sbrocca un attimo condivisibile chi era l'altro che aveva sbroccato malamente in seguito a blur blur tipo ha curata la morte vabbè una roba loro che va bene dai chi se ne frega fondamentalmente tanto siamo noi i cancri di twitch noi siamo i peggio perché parliamo male dell'altri ma vogliamo fare una prova vogliamo essere impavidi o no dimmelo che ne so donatemi una cifra e vi insulto la madre dico le utilizzo proprio le stesse parole mi raccomando lo faccio o no ditemi ragazzi io sono un posto dipendente che noi in quanto è un'imitazione già il fatto che tu lo chieda e che io adesso stia raggiando se farlo o meno dio ma potrebbe essere rischioso ti fa capire la mentalità che abbiamo noi e quanto a questi qua essendo protetti protetti non gliene frega un cazzo io mi sono stufato sono protetti ok sono amici sono amici di e sono protetti non gli accade niente possono dire il cazzo che vogliono e non è che io voglia dire quello che dicono loro ma è solo un discorso di disparità di trattamento perché quello che dicono loro oppure cose da ragazzini ma proprio da come come ho già detto da campetto quindi no ragazzi sto scherzando non lo faccio quindi non donate volevo solo mettervi un po il pepe al culo e far strizzare un po i miei colleghi per farvi capire qual è la nostra percezione no perché giustamente uno vede in video dice vabbè ma chi se ne frega l'insulto del cazzo anutente x come posso fare io nella vita di tutti i giorni io inteso persona che guarda ma anche per noi sono illazioni a prima volta sono illazioni a seconda sono ipotesi la terza ma qua stiamo tipo alla venticinquesima e comunque non posso divulgare ciò che so ciò che so interamente quindi fidatevi diciamo sotto gli occhi di tutti al di là delle delle illazioni sono una serie di comportamenti che nessun altro sulla piattaforma si permette di avere e le conseguenze non ci stanno qualcuno è stato bannato ogni tanto pure frenes era stato bannato solitamente per cazzatine mi fa pensare anche per cose quasi da bot o che passano direttamente le twitch america perché sono cose che non riguardano il linguaggio cioè tutti i ban che ho visto di questi personaggi qui allora io non riesco a seguire però il problema ce l'ho io veramente non riesco a seguire scusate non riesco a seguire il discorso di davide sto facendo fatica ve lo faccio presente tendenzialmente ci sono stati dei banni anche nell'ambito melagoto effettivamente però raramente sul linguaggio e mi ricordo alcuni molto scemi tra l'altro che inserimmo anche nel nostro imday come esempi di banni ingiusti tipo blur bannato per una cazzatina tipo per penatuta dove si vedeva un po' la forma del pacco proprio per stronzate sempre cose che sono applicate molto più frequentemente in america per i toss però comunque non cose relative al linguaggio non lo so comunque al di là di quello ma secondo me non si può dire semplicemente minacce di morte implicare che dire che la mamma di qualcuno è una mignotta queste cose qua c'è insultare il proprio pubblico a livello greve personale tutte cose che io so non si possono fare quindi per vederle fatte continuamente addirittura come parte integrante del content me fa strano come minimo poi sono anni forse si c'era stata nel world però belli ma vi ricordate contro sdrumox cosa è stato detto cose assurde rimaste proprio dimenticate e impunite tra virgolette quando a noi pure pena virgola c'è a noi all'inizio ad esempio ci mandarono proprio una mail avendo analizzato il nostro contenuto per dirci quali nostri eufemismi che ci eravamo inventati non andavano bene e oltre a dirci non usateli più comunque vi fate pure il ban ban da una settimana ma non mi ricordo di quanto era perché questo trattamento l'abbiamo ricevuto noi e basta e altre persone invece continuano a fare queste cose io la domanda che che voglio porre in aggiunta a quella di prima che era una domanda retorica ovviamente è la seguente ci sta che una persona non venga abbannata per una cosa abbannabile perché perché ovviamente i moderatori non sono milioni non hanno occhi ovunque ci sta cioè nel senso in live si dicono tantissime frasi la cosa che mi lascia un po interdetto è la seguente come mai tale leggerezza in queste affermazioni costante tra l'altro perché cioè significa che sanno in cuor loro o sono spruveduti sono dei pirati oppure sanno che possono andare più un po più in là rispetto quella assenza di filtro che hanno praticamente tutti perché sanno ma anche tipo un grimbaud un omiatol c'è anche un omiatol spesso lo magari lo vedete che sta cercando di dire una cosa lui sta sempre sul filo del risultato fa parte pure del gioco di twitch molti hanno creato una comicità dietro a questo invece il loro avverto proprio uno che questa cosa non esiste questo concetto nella loro mente capito possono dire quello che vogliono dai è però non è giusto leggiamo la contestazione grazie a tutti